Uno stadio pericoloso per gli spettatori. Per questo la Guardia di Finanza ha messo i sigilli sulla tribuna est e la copertura della gradidata nord dello stadio comunale Paolo Mazza di Ferrara. A conclusione delle indagini, i finanziari hanno denunciato nove persone per frode in pubbliche forniture, falsi, in progetto e collaudi, tra tecnici e titolari responsabili delle imprese che hanno ampliato il nuovo stadio. Tutto ha avuto inizio con la permanenza della SPAL in Serie A nella stagione 2018-2019, quando si è reso necessario l'ampliamento dello stadio sino a 16.000 posti. Dopo alcuni mesi dalla fine dei lavori, una delle imprese subappaltatrici coinvolta nell'esecuzione delle opere ha mandato una diffida all'utilizzo delle strutture a causa di alcune criticità severe nell'esecuzione delle procedure di montaggio, tali da esporre gli spettatori a pericoli reali e sussistenti. Le indagini volte a valutare l'effettiva conformità delle strutture alla normativa di legge e di regolamento, con particolare riferimento alla normativa antisismica, hanno evidenziato irregolarità nell'esecuzione dei lavori. Da qui il sequestro.